amici dell'enduro buongiorno oggi sono alla blackhall gara del campionato valido del trofeo di enduro estremo italiano e sono qui in gara per provare le lucioli le camere d'aria di cui vi ho parlato qualche tempo fa con mario rinaldi proverò sia l'anteriore che il posteriore vediamo come va se lo sai lo sai se non lo sai te lo dice il blogger se lo sai se lo sai e no 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 Grazie a tutti. 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 No, non ci doveva. A parte mi arriva tutto l'occorrente. Più che altro devi tirare. No, qui non si tira nessuno. Grazie. Grazie a tutti. 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 Oh, quando si spinge la moto in discesa è brutto segno. qui è un belino di scida. per ora, è tutto ok. Ok, davanti, nessuna sensazione di pesantino sul davanti e dietro una buona trazione, sto girando quasi a zero. e quindi, grazie a tutti. non ci passo qua mauro dove l'hai passato? non l'ho neanche visto ok blogger un giro e quattro check point della black hole test lucioli per me è sì praticamente credo di aver viaggiato quasi sempre a bar 0 o 0 1 e nel momento in cui sentivo che magari non avevo trazione per via delle pietre viscide buttavo il culo dietro e la moto ti portava su l'importante era stare attaccati davanti non ho avvertito problemi legati al peso, all'abbidabilità per me lucioli sì, se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo dice il blogger ciao 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 ciao